È la 42esima edizione del premio Flaiano, quella che aprirà il prossimo 26 giugno e che fino al 10 luglio vedrà proiettati lavori di respiro internazionali, suddivisi in sezioni quale storie di ragazzi, commedia francese, scrittura e immagine, nuovo cinema italiano e i favolosi mondi di Terry Guillaume. Mai edizione è stata così problematica per la sua effettuazione come questa. Del resto era cosa prevedibile, dati i tempi, date le difficoltà che attraversa il Paese e la nostra Regione. Il momento molto atteso poi sarà quello della premiazione finale che ogni anno ospita personaggi di caratura internazionale per letteratura, cinema e arte. Quest'anno si svolgerà il 12 luglio nel celebre Teatro d'Annunzio. Possiamo garantire che quest'anno, questa nuova stagione intensissima, molto interessante e molto ricca, il Flaiano Film Festival che siamo qui a inaugurare. Tra l'altro ci sarà anche una sezione dedicata a Terry Gilliam, un regista secondo me fantastico perché è costruito molto immaginario e dato vita a una serie di cinema che è proseguito in questi anni, generando altro cinema. Poi abbiamo una sezione dedicata ai diversamente dipendenti, così viene chiamato. Anche lì sarà molto interessante vedere appunto i nuovi linguaggi, i nuovi registi, le nuove tendenze del cinema e l'innovazione in questo campo. Quindi anche quest'anno è un calendario ricchissimo, ci farò stare splendide giornate con il solito grande finale con gli ospiti di eccezione a Pescara.